Se lo dice lui c'è da alzare le mani. Carlos Tavares è portoghese, porta un cognome simile a quello di un celebre allenatore di una squadra di calcio, ma guida un altro tipo di squadra. È tra i migliori manager al mondo nel campo dell'automotive. L'ex amministratore di Renault poi ha guidato PSA e ora Stellantis. Viene considerato l'erede di Sergio Marchionne con uno spessore addirittura maggiore. E lui ad avere detto in queste ore tre cose. Gli stabilimenti italiani di Stellantis non sono a rischio, anzi verranno tutelati, quindi anche Cassino Plant. Tutti gli stabilimenti avranno una mission, quindi anche Cassino Plant. I marchi Alfa Romeo e Maserati verranno rilanciati, sono quelli che vengono prodotti a Cassino Plant. Non lo ha detto uno a caso e non lo ha detto Albarra. Significa finalmente una strategia chiara per FCA Stellantis, quindi per Cassino Plant. Tutto risolto? Per niente. Le vere strategie Stellantis sono quelle che vedremo da qui a qualche anno. Ed è per quella data che dovremo farci trovare pronti, con un territorio capace di rispondere ai requisiti che richiede un moderno impianto di quelle dimensioni. Energia a basso costo, manodopera formata nel 4.0, competenze trasversali, politiche fiscali che agevolino gli investimenti e le assunzioni. Servono strategie industriali per questo territorio e per questo Paese e per Cassino Plant in particolare, non inutili crisi di governo. Senza ricevuta di ritorno.